Ciao amici benvenuti nel canale commentatore donna. Sarei molto felice se ti piace e condividi il video. Aspettando i tuoi commenti. Resta sintonizzato per le notizie più affidabili e aggiornate. Parleremo dei loro cibi e bevande preferiti ogni volta che Kanyaman e Kerem Bursin vengono in Turchia. La Turchia è un paese con una ricca storia e cultura culinaria, con una varietà di piatti e bevande tipici molto apprezzati sia dai turchi che dai visitatori provenienti da altre parti del mondo. Di seguito un'analisi di 5 piatti tipici e delle 5 bevande tipiche turche preferite da Kanyaman, Dreaming Bird, e Kerem Bursin, Love is in the Air, e il grado di armonia di ciascuno. Kebab Uno dei piatti preferiti di Kanyaman e Kerem Bursin è questo piatto tipico turco in cui vengono grigliate carni marinate. Può essere di agnello, pollo o vitello e viene servito con verdure e pane. Questo piatto è molto adatto a uno spagnolo, poiché il roast beef è un ingrediente molto comune nella cucina spagnola. Pasticcino Un altro piatto preferito di Kanyaman e Kerem Bursin è l'empanada con carne, verdure o formaggio, cotta in padella o al forno. Questo piatto è molto appetitoso per uno spagnolo perché le empanadas sono un piatto molto comune nella nostra cucina. Riempimento Questo piatto tipico turco è composto da verdure come peperoni, pomodori o melanzane ripiene di riso e spezie. Questo piatto, preferito da Kanyaman e Kerem Bursin, si addice a uno spagnolo perché ci sono piatti simili nella cucina spagnola, come i peperoni ripieni o le melanzane ripiene. Polpetta È un piatto tipico turco composto da carne macinata mista a spezie e grigliata o fritta. Questo piatto può essere abbinato a uno spagnolo, poiché la carne macinata è comune nella cucina spagnola. Yaman e Kerem Bursin possono amarlo? Tipo Un altro piatto tipico turco che Kanyaman e Kerem Bursin vogliono ogni volta che tornano nel loro paese dopo il lavoro. Consiste in un misto di verdure cotte come peperoni, pomodori, melanzane e zucchine insieme a riso e carne. Questo piatto è adatto a uno spagnolo, perché nella cucina spagnola ci sono anche piatti simili come la ratatouille o il caldero. Ecco la bevanda turca che Kanyaman e Kerem Bursin adorano e, se ti piace, te lo diremo. Tè È una tipica bevanda turca a base di tè nero ed è molto comune dopo i pasti. Questa bevanda è molto adatta per uno spagnolo, perché il tè è molto popolare in Spagna e viene bevuto regolarmente nel paese, come puoi vedere in questa foto di Kanyaman che sorseggia un bicchiere di tè. Airan Questa tipica bevanda turca è a base di yogurt diluito con acqua e sale. Sebbene possa sorprendere alcuni spagnoli, l'Airan è molto rinfrescante ed è molto comune vederlo bevendo Kanyaman o Kerem Bursin durante i mesi estivi. Raki È una tipica bevanda alcolica turca a base di uva o fichi. Di solito viene assunto diluito con acqua ed è molto popolare in Turchia, anche se potrebbe essere meno familiare a uno spagnolo e l'equivalente potrebbe essere l'anice con acqua. È la bevanda preferita di Kanyaman con il whisky, e appare anche in una puntata di Viola come il mare mentre condivide un bicchiere di raki con Francesca Chillemi. Rapa È composto da carote e sedano e di solito viene assunto diluito con acqua. Anche se può sembrare un po' strano ad alcuni spagnoli, il salgam, molto rinfrescante e molto comune in Turchia, è una delle bevande preferite di Kanyaman e Kerem Bursin. Bozza Questa bevanda è a base di farina di frumento e acqua e di solito si gusta fredda. Anche se può sembrare un po' strano per alcuni spagnoli, la bozza è molto dolce e molto popolare in Turchia, quindi è normale vedere Kanyaman o Kerem Bursin bere un bicchiere di bozza. Questi sono i cibi e le bevande preferiti di Kanyaman e Kerem Bursin. Sono così tipici che è molto normale vedere uno dei due attori turchi mangiarli e berli con la famiglia o gli amici. Sebbene alcuni di questi cibi e bevande abbiano per noi gusti molto esotici, sono generalmente abbastanza compatibili e possono essere consumati con piacere da tutti gli amanti del cibo e delle bevande, soprattutto considerando che Kanyaman e Kerem Bursin li consumano con piacere ogni volta che vengono. Grazie a tutti.